Le grandi aspettative degli italiani su un governo dei migliori per rispondere all'appello del capo dello Stato sulla drammatica situazione nella quale versa l'Italia si infrangono tragicamente sulla fotografia di un governo di compromesso per rispolvere a buona parte dei ministri di Giuseppe Conte. Mi chiedo se i lavoratori, le categorie produttive, gli italiani in difficoltà si sentano rassicurati dalla immagine che vedono. Personalmente non posso che credere che oggi più che mai serva all'Italia un'opposizione libera e responsabile ed è quello che Fratelli d'Italia intende fare.